Bassano Expo chiude con il segno più la prima fiera interamente dedicata alla bicicletta che si è svolta lo scorso fine settimana. Contentissimi, siamo stati premiati dai visitatori, ovviamente contenti di espositori, però era una fiera richiesta dai visitatori, abbiamo avuto migliaia e migliaia di appassionati. Abbiamo visto tanti appassionati, ma abbiamo visto appassionati da tutte le età, abbiamo avuto anziani, famiglie con i bambini, giovani che sono venuti a trovarci, questo ci ha veramente fatto piacere e contenti. Un'esperienza da ripetere la faremo in nottunno al prossimo anno. E i padiglioni di Bassano Expo si preparano a ospitare la terza edizione di Animals domani e domenica. Anche questa è una grande fiera, ci porta tantissimi visitatori e speriamo che ritornino anche questo weekend. Vengono presentati degli animali non soliti, dai rettili, ma anche diverse tipologie di tartarughe e molti pesci. Ci saranno delle novità quest'anno, infatti saranno presenti anche degli uccelli esotici e delle tipologie di piante particolari. Uno stand specializzato su delle orchidee e uno stand sulle piante grasse, per cui è ancora più ricca rispetto all'anno scorso. Inoltre un workshop, infatti sarà possibile imparare ad allestire il proprio terrario, il proprio acquario, all'interno di uno stand, un espositore sarà disponibile per questo. Nei pomeriggi di sabato e domenica sarà disponibile un veterinario per dare consulenze gratuite ai visitatori.